quelli che vedete sono i lavori realizzati a mano dagli artisti con autismo dell'officina dell'arte li trovate tutti al temporary shop di pordenone in corso garibaldi 11 che merita una visita se volete immergervi in un clima che in questo momento difficile scaldi il cuore tutti i prodotti sono fatti a mano con passione e confezionati con arte da persone che con il supporto di personale terapeutico artigiani portano in vetrina il loro lavoro e il loro impegno per un natale nel quale più che mai c'è bisogno di calore e solidarietà aspettandovi il negozio vi lasciamo alle immagini dei prodotti che spaziano dalle cornici alle decorazioni natalizie in mosaico e non solo ma anche opere di grandi dimensioni e i buonissimi panettoni biscotti e vino buono alla prossima Grazie a tutti.